Bentornati in un nuovo video della serie Affitti Brevi in 30 giorni. Quest'oggi parleremo di stagionalità, una parola che per tanti può significare, può sembrare uno svantaggio, in realtà è un grandissimo vantaggio e capiremo perché in questo video. Prima vi chiedo una grandissima cortesia, iscrivetevi al canale per non perdervi altri video su questo fantastico mondo e su questo fantastico percorso che stiamo intraprendendo per portarvi sempre più vicini al mondo dell'affitto breve e fatemi sapere cosa ne pensate di questi video qua nei commenti. Ma torniamo a parlare di stagionalità. Stagionalità è quando un determinato immobile, in questo caso, o comunque quando una località è soggetta appunto a dei flussi turistici basati appunto sul tipo di stagione in cui ci troviamo. Va da sé che in Liguria o nella costa amalfitana, nella costiera amalfitana, si lavori di più d'estate rispetto all'inverno. Perché? Perché sono località la cui stagionalità forte, la cui alta stagione, scusatemi l'impappinamento, è ovviamente d'estate, ma non significa che d'inverno queste località sono vuote. E già qui entriamo in un tema molto importante perché tanti pensano che, ad esempio, in Sardegna, in Sicilia, eccetera, si lavora solo d'estate. Sbagliatissimo, ma ne parleremo più avanti nel video. Quindi, per riassumere, stagionalità è quando in una località si lavora per lo più maggiormente in determinati periodi dell'anno. È ovvio che città come Roma, Milano, Firenze, Venezia, sono meno soggette a stagionalità. Io le reputo più evergreen, località sempre verdi, quindi località dove tu ottieni prenotazioni bene o male alla stessa fascia di prezzo, 365 giorni l'anno. Poi è ovvio che se a Roma c'è il Papa per una ricorrenza particolare, quella settimana i prezzi aumenteranno molto. Quindi c'è comunque un'alta stagione. Oppure è ovvio che a Milano con la Design Week i prezzi aumentano e quindi c'è una stagionalità più alta anche lì. Però, bene o male, i prezzi li fai durante tutto l'anno, uguali, sono quelli. Mentre è ovvio che in Sardegna, per fare sempre un esempio, d'estate chiedi molto più denaro. Però tante persone, addirittura in questi luoghi soggetti a stagionalità, chiudono proprio le case magari d'inverno, in autunno o in primavera. Quando io sconsiglio di fare ciò, proprio perché la massa, la maggior parte delle persone, bloccano le strutture, quei pochi che le tengono aperte riescono comunque ad intercettare un tipo di turismo in bassa stagione che esiste. Perché? Perché noi siamo abituati a che in ferie si va bene o male ad agosto. Ma questa è una cosa tutta italiana, perché nei paesi scandinavi, negli Stati Uniti, in tante altre parti del mondo, le ferie sono sparse in tutto l'anno. Cioè un americano medio non è che va in vacanza ad agosto, l'americano medio va in vacanza quando gli viene permesso dal lavoro. Quindi c'è chi va in vacanza a gennaio, c'è chi va in vacanza a marzo, chi a luglio, chi a settembre, eccetera, eccetera, eccetera. E io, avendo ormai oltre 100 immobili in gestione, nelle località più disparate, mi sono reso conto di quanto c'è gente che, ad esempio, voglia visitare Capri anche d'inverno. C'è gente che vuole vedere la Sardegna, il cui mare è bellissimo anche d'inverno, a febbraio c'è chi vuole visitare Napoli d'inverno. Quindi comunque c'è un flusso turistico. E, ripeto, il fatto che la maggior parte delle strutture chiudano permette a coloro che rimangono aperti di fare degli ottimi affari. Quindi la stagionalità esiste, ma non significa che nei periodi di bassa stagione non si possa monetizzare. E questo è il primo insegnamento che vi do. Esempi di località che funzionano bene anche d'inverno sono la Sardegna, la Costiera Amalfitana, le varie isole, Procida, Capri, Ischia, ma bene o male veramente qualsiasi parte d'Italia, perché l'Italia è veramente apprezzata 365 giorni l'anno. Ci sono tantissime persone che sognano di visitare l'Italia, non possono necessariamente farlo in alta stagione o non vogliono farlo in alta stagione per via dei prezzi molto alti e magari vanno a Porto Cervo a novembre. Succede, ve lo posso assicurare. Quindi abbiamo visto che esistono località stagionali dove comunque si può lavorare senza nessun tipo di problema, anche in bassa stagione, e ci sono le località evergreen. Le località evergreen non le analizzeremo in questo video, ci focalizzeremo per lo più appunto in località stagionali e in dei concetti che riguardino queste località stagionali. Ma qual è la tipologia di viaggiatore che affitta in bassa stagione? Abbiamo visto che ci sono dei turisti che vogliono o possono viaggiare solo in quelle stagionalità lì per i motivi più disparati, economici, lavoro, ferie, eccetera, 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 ma ci sono anche tante persone che devono soggiornare nei mesi di bassa stagione per preparare l'arrivo dell'alta stagione. Ad esempio, spesso mi capita di affittare a manutentori, lavoratori, eccetera, di aziende che magari fanno le ristrutturazioni degli immobili, le manutenzioni di determinati macchinari, piscine, eccetera. Quindi è ovvio che se la stagione estiva inizia a giugno, a aprile e maggio, tantissime persone andranno in queste località per preparare la stagione, piuttosto che si affitta magari a dipendenti di aziende molto importanti che operano solo d'estate. Ad esempio, la boutique Rolex di Porto Cervo si popola di persone che arrivano da Milano, da Roma, eccetera. Queste persone di queste boutique importanti, di alta orologeria, Chanel, Hermès, eccetera, devono soggiornare da qualche parte. Prenotano quasi sempre immobili su Airbnb. Quindi dovete capire che chi prenota non è solo il turista, c'è chi prenota in alta stagione non essendo turista, ma soprattutto c'è chi prenota in bassa stagione non essendo turista. Veramente ho perso il conto di quante volte sono venute persone che dovevano magari imbiancare immobili, fare manutenzioni, ditte di ristrutturazioni, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi c'è un mercato veramente enorme. E la cosa bella è che in bassa stagione, di norma, non prenotano per una notte o due notti. Magari vengono a farsi anche letteralmente settimane. Capita spesso anche di persone che vengono a farsi smart work in due settimane, in Sardegna, in bassa stagione, perché costa poco, comunque se ti becchi la bella giornata è molto bello, è molto rilassante e a non tutti poi piace anche magari proprio il caos che si crea in determinate location in alta stagione. Con una volta in determinati luoghi d'Italia, ad agosto tu non ti muovi se vai in macchina, mentre poi nello stesso località ci vai ad ottobre o ci vai ad aprile, sono vuote e te le godi molto di più. Quindi ha senso lavorare in bassa stagione? Secondo me sì, sia in property management, dove guadagni in percentuale e comunque ti puoi mettere in tasca un bel gruzzoletto in virtù del fatto che praticamente non hai competitor, ma soprattutto in sublocazione. Se ad esempio vi avete una sublocazione di un anno, ovvio affittandola solo d'estate voi non solo vi ripagate tutti i costi, ma generate anche un bel profitto, ma se iniziate ad affittare anche nei mesi di bassa stagione, quello è tutto grasso che cola. Vi è capitato infatti, molto spesso, affittando in bassa stagione, di riuscire a coprirmi i costi di quelli immobili di tutto l'anno. Così facendo l'alta stagione si è rivelata essere praticamente 100% profitto. E lo so, può sembrare strano, ma seguendo tutte le strategie che insegniamo in B&B Academy, questo è molto più semplice da raggiungere di quanto voi non possiate pensare. Però dall'altra parte c'è anche un altro trend, ovvero il trend di chi dice io non voglio lavorare in determinate stagionalità, ovviamente quelle basse, quindi lavoro solo d'estate e il resto dell'anno me lo passo in vacanza o a fare altro. Abbiamo ad esempio fatto diverse testimonianze con persone che seguono questa filosofia. ad esempio la testimonianza di Enrico che diceva, se non mi ricordo male, lavoro tipo sei mesi all'anno, gli altri sei mesi io li passo in vacanza. Perché? Perché guadagna talmente tanto in quei mesi estivi che poi nella restante parte dell'anno letteralmente non deve fare niente. Può permettersi di grattarsi, di viaggiare, di affittare se vuole, ma non è obbligato. Infatti non è che io vi dico voi siete obbligati ad affittare anche nei mesi di bassa stagione, ma è un qualcosa che è importante sapere, che può essere fatto e che comunque è remunerativo. A proposito di testimonianze, ne abbiamo registrate a centinaia e le trovate la maggior parte qua sul nostro canale YouTube, compresa quella di Enrico, che a questo punto vi lascio in descrizione, dove racconta di come, grazie a B&B Academy e all'affitto breve, ha letteralmente cambiato vita e lavora pochi mesi all'anno. Un'altra testimonianza di cui adesso purtroppo non ricordo il nome è quella di una persona che possiede un lido, quindi di norma affittava ombrelloni, lettini e quant'altro, ed è entrata anche questa persona nel mondo degli affitti brevi, seguendo il trend stagionale e anche qui ha avuto delle grosse soddisfazioni, arrivando, se non ricordo male, addirittura a guadagnare di più dagli appartamenti che dal lido, che è il suo lavoro storico che fa ormai da decine di anni. Quindi è bello vedere come, anche con poca esperienza, si può iniziare a guadagnare sin da subito cifre importanti grazie all'affitto breve. Il tutto ovviamente seguendo un metodo però prestabilito, non a sensazione, non guardando dei video YouTube che vanno benissimo assolutamente per avere un'infarinatura generale, ma se si vuole avere realmente successo in questo business è importante investire in se stessi e in formazione. Ed infine, un altro consiglio che mi sento di dare è quello di acquisire, soprattutto in bassa stagione, perché la bassa stagione è molto utile per trovare immobili che in quel momento sono sfitti da portarsi a casa, magari ad un prezzo vantaggioso se parliamo di sublocazioni, al fine di generare importanti profitti nella stagione estiva, o anche da convincere semplicemente in property management, ovvero ad investimento zero. Infatti, un proprietario magari può non aver piacere che il suo immobile rimanga sfitto nei mesi invernali e preferisce dar via la casa a meno ma per tutto l'anno piuttosto che rischiare di lavorare solo d'estate se parliamo di sublocazioni. Se parliamo di property management comunque ci sta che un proprietario abbia piacere nel monetizzare la sua proprietà anche nei mesi invernali e noi, in qualità di property manager, possiamo andare incontro a questa sua esigenza garantendogli, sì, degli incassi sicuramente importanti nei mesi estivi, lavorando ovviamente anche noi a provvigione ma una value proposition quindi un qualcosa, una leva col quale convincere il proprietario può anche essere quella di grazie alla mia gestione ti metterò in affitto breve l'immobile anche d'inverno e potrai guadagnare dall'affitto breve anche d'inverno cosa che le agenzie classiche e il 99% degli altri property manager non fanno. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto vi ho voluto dare dei piccoli spunti per capire come gestire la questione stagionalità perché mi piange veramente il cuore quando sento persone che mi dicono ma io vivo in Sardegna ma io vivo in Sicilia ma io vivo in Toscana e qua si lavora solo d'estate niente di più sbagliato perché proprio perché tutti pensano che si lavori solo d'estate quei pochi che lavorano d'inverno fanno veramente degli ottimi numeri per questo video è tutto mi raccomando guardate i contenuti qua in descrizione perché sono utilissimi iscrivetevi al canale e ci vediamo nel prossimo video ciao